allora salve raga allora se facciamo una chiacchiera allora non vi ho abbandonato sinceramente per carità anzi 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 comunque avete visto l'altro giorno il video era un cassato nero tutto quanto perché alla fine non mi hanno non mi hanno accettato la insomma da assenza non me lo danno più non dando più assenza diventa un problema perché i soldi non stanno vanno a finire se ripetono sicuramente andrà a finire così perché il pagamento quello del suo assenza non me lo danno non c'è modo da poter perché non c'è modo da poterli contattare questi non c'è modo a voglia che gli mandi l'email e dici funziona così ma vanno tanti deficienti tanti robot i robot lavorano con youtube ma sono tutti robot stanno lì non so che cazzo stanno a fare comunque la gente che lavora per youtube ma sicuramente sono robot non so persone questo robot perciò mi scrivono quando mi scrivono sono sempre vaghi ti dicono delle cose dicono solamente le norme sono queste vai a vedere lì e questo funziona così ma se tu gli spieghi una cosa mi spiegate dove sono andato e finisato non te lo dicono non te lo sanno dire non te lo dico mi spiegate che fine ha fatto il video così non te lo dicono ma ce l'hai tutti sì ce l'ho tutti in privato io li vedo io i miei video però tutti bloccati mi sta messo video bloccato 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 perché tutti quelli che sono stato fatti con la monetizzazione sono stati bloccati allora la monetizzazione forse forse meritano la monetizzazione quella normale quella normale non con assenze perché con assenze i profitti sono più alti sono più alti però da da un da un male a volte può nascere un bene perché ho sempre pensato una cosa se io da una porta si apre un portone è sempre stato così solamente nella vita mia per quello che ho fatto nella vita ogni volta che mi si chiudeva la porta mi si apre un portone e sarà sarà la stessa cosa pure sta porta perché come sapete tutti a me youtube insomma mi piace parlare con voi spiegarvi le cose parlare di pallone parlare magari dei fatti sociali e tutto quanto sapete no e tanti apprezzano il modo mio di propormi di dire cose come la penso tutto quanto tante persone anche se qualcuno non gli piace come la penso ma non tutti posso piacere questo è logico secondo me il fattore dei dei clic come vi ho detto non non regge non regge qualcuno avrà cliccato più però è normale tutti presenti e mi dici magari mandi un avviso non è che tu me blocchi la monetizzazione perché bloccando la monetizzazione in quel lato la me blocchi pure tutte le persone che hanno pagato al canale quelli che hanno pagato i tre euro al mese ecco o qualcuno ha pagato anche l'intero anno allora queste sono sono bastardate sono sono bastardate dove avvisarmi se c'era un problema avvisarmi prima qualche giorno prima dice guarda questo problema così così cerca da risolverlo sono a mettere in contatto con noi che ti spieghiamo come può risolverlo questi pieno bloccano tutto allora è proprio quello che mi ha mandato in bestia mi ha fatto incassare non è tanto perché cazzo stim no ci sta capito tu dici questo video è bloccato perché roba dei minorenni non rispetta le cose e va bene poi ci ho messo ho sistemato però è rimasto bloccato uguale sarà che cazzo ne so poi su assenza è successo quello che è successo è normale che se io ho fatto che ne so 500 iscritti a pagamento e hanno cacciato 3 euro youtube si è preso 1.500 euro capito come 1.500 euro si è preso youtube e non solo più le pubblicità che io ho fatto su assenza e più i soldi quelli normali di youtube quando fai stai andando a vedere analytics su youtube insomma si è fregato un po' di soldi un bel po' di soldi ma c'è un motivo perché youtube sa ha fatto questo perché poi fatalità il 15 si stanno i pagamenti il 15 paga paga tutto quello del mese precedente allora è quello che ti vanno a messa ti guarda sti figli di puttana ho fatto che si è arrivato ma se mancano pochi giorni al pagamento queste mette una storia si prendono tutti i soldi loro perché stanno in crisi e magari levandoli a me e hanno fatto pure uno scherzo pure altre persone altre persone hanno fatto la stessa cosa come me che mi arriva da voce dice guarda ma pure a hanno fatto questo pure a me però no perché c'è un caldo a pagamento perché magari su adsense e sui profitti su youtube anche a me mi hanno fatto questo ma c'è un motivo perché loro se prendono questi soldi poi ripartano un'altra volta da capo se tu riparti riparti tu quei soldi non contano più perché non te li danno perché non c'è modo per fare un reclamo non c'è modo per reclamare non c'è modo ci vorrebbe un grosso avvocato devi cacciare i soldi magari questi pensano che ti pare questo per 1.500 euro mette un avvocato gli costa più di avvocato che ripieni i soldi per farti capire allora magari uno pensa vabbè dispiace per gli iscritti perché su quelli che avrei guadagnato io a parte sulle pubblicità e casi quella è un'altra storia però a me mi dispiace per quelli che hanno pagato per quelli che hanno pagato poi ho detto dico ragazzi non c'è problema entro stiamo valutando un po' dovrebbe essere entro per la prossima settimana dovrebbe essere risolto in modo differente in modo differente perché sono guardati come c'è un vecchio portale che ancora ce l'ho e non l'avevo chiuso lo tenevo lì l'ho fatto sei sette anni fa l'ho aperto sto portale tipo come youtube un altro portale dove ho dei video vecchi vecchi video che stanno lì una decina dei video forse c'erò è detto quasi quasi o riprendo questo del portale e lo porto in modo differente o se lo continuo su youtube perché nel primo momento io ho pensato io youtube lo mando a fanculo ho pensato ma perché dopo andare a fanculo così gli altri ho da vinta sono diverse volte che mi ha chiuso dei video mi ha fregato già dei soldi in passato e mi sa rifrega adesso i soldi ho visto dei video che hanno fatto dei colleghi youtuber tipo questi qua che che loro ce lavorano proprio quello che pare quotidiano loro e hanno detto insomma che i loro intro di toccati il 60 70 per cento 70 80 per cento pure addirittura pure dj favicese se lamentato perché lui ha spiegato in un video quello che succede e quello che è perché le norme sono cambiate da un mese a sta parte fatalità mentre che io preparavo il canale a pagamento è capito youtube stava cambiato di potete il sistema delle non può scrivere questo non può dire quello di non uso però non puoi scrivere soprattutto nel titolo è sotto quello che dipende quello che scrivi quello che metti perché sennò ti può bloccare il canale lo blocca in questo in cui non si può vedere questo video bloccato allora allora ho detto per quale motivo io adesso devo dovrei mandare a fanculo questi dopo che mi hanno fatto tutto sto casino e mi hanno fottuto soldi perché secondo me fa la fine di questi saliranno io ragazzi voi avete dovete avere fiducia a me il problema nel giro di una settimana massimo mercoledì prossimo dovrebbe essere tutto a posto dovrebbe essere tutto a posto perciò io continuerò a fare video su youtube sì però su youtube non lo vedrete se voi cliccate su youtube non lo trovate il video lo trovate da un'altra parte lo carico su youtube youtube perché così poi youtube lo sfrutto lo sfrutto però lo metto da un'altra parte che lo vedrete da un'altra parte su youtube non lo potete più vedere i video ne caricherò mille tutte mille se non li vedrete li vedranno quelli che si iscriveranno in un altro modo che poi vi spiegherò a tempo debito perché questa è la bella cosa che stiamo facendo perciò spenderete meno soldi che costerà meno iscrivervi al canale che poi ho detto ci saranno ancora ancora cose migliori molte cose migliori spenderete meno soldi e forse guadagnerò pure qualcosa più perché poi vi spiego bene perché è una bella cosa siamo una bella cosa perciò questo io ho fatto ho pensato ma perché io infatti ho detto io entro settembre voglio abbandonarlo quando a fanculo dicono infatti poi a mente fredda ci pensi perché quando sei incazzato mi hanno resti a fanculo e ti spaccheresti pure la faccia però a mente fredda poi ci ho cominciato a ragionare dico perché gli ha dovuto a vinta così a questi che che mi hanno mi hanno chiuso tre canali mi hanno fregato i soldi già una volta mi stanno di fregare un'altra volta hanno diverse volte non hanno dato la monetizzazione l'hanno proprio data se li sono fottuti loro diverse volte sapete come girano le palle video magari mi hanno censurato video che magari non erano niente di che me l'hanno censurati a suo tempo ho detto non c'è problema non c'è problema non c'è problema ho fatto di cosa che c'è adesso io venculo con lo stesso occhio per occhio veni in culo con la stessa moneta io venculo con la stessa moneta però a voi non vi faccio guadagnare più un cazzo voi da me non guadagnerete più un centesimo uno io guadagnerò sfruttando a voi si sfruttando proprio youtube te sfrutto e guadagno e tu non fai la lira su di me ti sfrutto come hai fatto tu come mi hai sfruttato tu a me perché funzionerà così abbiate pazienza ragazzi una settimanella e le cose vedrete che poi saranno diverse spero spero perché insomma ci sta a mettere insomma sto macchie ingegno stanno a fa che dovrebbe portare voi se mi seguite fa tutti gli iscritti che stanno su su youtube poi magari me li porto tutti a sempre su youtube stanno magari però messi catalogati da un'altra parte perciò se mi volete seguire ci sono belle novità come ho detto però non pagate quei soldi che avete speso ragazzi soldi quelli che avete cacciato quei soldi lì non saranno stati in vano perché chi chi ha pagato e magari ha perso il mese o un anno però me lo dovete far vedere che avete fatto l'iscrizione era a pagamento perché se no ragazzi non è che posso perché mi dovete dimostrare che ci sta per questo c'è il numero whatsapp della momento a tempo debito poi sul whatsapp me lo dovete comunicare e mandare come fotografia come cosa che tutto è a posto che è stato pagato il versamento è stato fatto così così questo ok perciò vi comunico non iscrivetevi più non iscrivetevi mantenete l'iscrizione fino al 27 o magari fino a quando magari dopo perché ci avete 14 giorni di prova e poi tutto il mese perciò un paio di giorni prima disdite la cosa non vi levano i soldi in automatico sulla carta dei credi o sul paypal o quello che avete fatto ve li levano disdite ve lo dico io sto giro ve lo dico io levate proprio perché sennò vi rilevo un'altra volta perché i video non sono monetizzati non sono monetizzati me l'hanno me l'hanno bloccati un mare e non monetizzati ok e perciò li possono vedere tutti perciò adesso è andata così ma quelli che hanno pagato non avranno pagato in vano perché quando sistemano la cosa voi entrerete dall'altro portale dall'altra insomma l'altra situazione che voi i video li vedrete li vedrete subito vi spiego poi poi vi spiego come ok non c'è problema perciò voi quel mese che avete pagato o qualcuno che ha fatto un anno sarà già sarà rimborsato a ritornerà tutto insomma a rivedere quello che dico quello che penso quello che faccio e quello e le proposte che tiro fuori che ci saranno le proposte in futuro che darò questo è il quanto per il momento comunque niente ragazzi penso non so magari vi comunicherò qualcosa entro sabato o domenica per vedere se come stiamo messi più o meno entro sabato o domenica e poi magari se c'è sta la cosa che prende piede nel momento che è tutto sistemato e tutto a posto vi comunicherò farò un bel video così vi dirò come fare per iscrivervi in modo differente dove magari risparmiate pure avete più benefici perché come ho detto a volte da un male può nascere un bene da una parte vedi mi scoccia però sono contento è successo contanto pure che è successo sono pure felice perché con questa cosa oggi ho girato tutta la situazione perché vi farò risparmiare più soldi a voi e io guadagnerò di più perché funziona così ragazzi questo è quanto io adesso vi tengo in aspettativa vi tengo abbiate pazienza che poi alla fine le cose si sistemeranno come si deve perciò ragazzi abbiate fiducia del sottoscritto che non è che vuoi accannato magari i soldi non l'ho preso io ragazzi io non vuoi preso una lira ma tutti gli youtube si è rubati perciò poi a tempo debito farò proprio un video contro youtube ma lo farò forte su un altro portale lo farò ma lo farò veramente forte per far capire che razza di merda sono questi per far capire veramente che merda che so perché così perché è diventata una merda come ho detto già è una merda che c'è dentro tutta la monnezza che c'è stai ma immaginate sono diventati pure loro merda se so come se cao se coagula la merda a fine o quelle oltreppo è così perciò questi se stanno a puzzare fame stanno a cercare di rimediare un po' di soldi qua un po' di soldi là e non te pagano così se c'hanno che ne so 200 milioni di iscritti a pagamento basta che fai che ne so mille euro l'uno gli elevi 200 milioni per mille fate quanti soldi loro che sono accaparrati che non devono sborsare immaginate ma forse sono pure dei più dei perciò fatevi due conticini e vedete che c'ho ragione perché se stanno a mente a sta storia perché stanno nella merda stanno andando a male hanno messo ci hanno avuto tutti stimpicci che hanno fatto clausole quello un po' scrive quello un po' fall tutto è diventato un po' di un po' fa un cazzo quasi scrive devi sta attento a quello che scrivi parlare magari è diverso perché magari la traccia audio non è come quello che è scritto perché se parli devi stare lì magari uno dovrebbe visionare due miliardi di video diventi scemo perciò non è come quando tu trasmetti la traccia della canzone che c'è la traccia audio capito che subito copyright o magari una traccia video copyright è diverso parli magari uno può dire affanculo un po' le castronzate così può dire perché tutti le diciamo un po' le parolacce ma nell'insieme la parolaccia anche in modo è accetta ancora accetta su youtube perciò perché se andate a vedere i video del germano mosconi dovrebbero essere tutti censurati ma i video del germano mosconi ancora girano su youtube e dei bessemi se ne sentono mare allora capito a me perciò è stata tutta una mossa questa alla fine ho capito che è stata una mossa proprio per fregarmi i soldi per i soldi vostri perché sono comparto di proprio male perché lo fanno con con hanno fatto sicuramente con chi ha magari un introito magari che abbastanza considerevole quindi quelli che le hanno alto no perché quelli portano a tizia ma quelli che ce l'hanno medio medio basso e ce ne so tantissimi magari fanno la parte da leone perché non è che tutti quanti c'hanno sì c'hanno magari 100 c'hanno alto e poi 2 miliardi ce l'hanno basso però 2 miliardi levi tutto gli fa imberdato quello diceva beh ma sti cazzi che ce fanno causa appena stronzata o magari che mettere cecitano beh ma no ma che si fa gli elevi 2 3 mila euro 5 mila euro ma questi manco te rompono il cazzo che mettono un avvocato famo una causa perché levamogli tutti sti soldi a sti coglioni invece se gli levi che ne so un portale che te fa portare un sacco di soldi e ci hanno insomma sete legali e cassi vari grossi con i controcassi è normale che è facile che ce qua rimette perciò questo è il quanto perciò hanno fatto gli stronzi e saranno ripagati con la stessa moneta ciao raga e al più presto saprete belle notizie ciao